Siamo con Alessio Anzuini, candidato al Consiglio Comunale nella lista del Movimento per le Autonomie, una delle sette che compongono il progetto L'Aquila Città Aperta, che sostiene la candidatura a sindaco di Giorgio De Matteis. Per lei, prima candidatura al Consiglio Comunale, perché questa scelta? Sì, è la prima candidatura, ma nel momento in cui ho aderito al progetto di L'Aquila Città Aperta, sono stato di buon grado coinvolto in questo progetto, proprio perché credo che la rinascita di questa città debba essere l'unione e la forza di tutti quelli che vogliono dare un apporto, a seconda di quella che è la propria professionalità, la propria serietà, e soprattutto con il momento anche drammatico che sta vivendo la politica e la sfiducia, soprattutto da parte dei cittadini, forse prima di aderire a questo progetto, prima che Giorgio De Matteis riuscisse a fondare questa idea nuova di politica, ero anch'io tra gli sfiduciati, perché vedevo che non si riusciva a trovare un discorso plausibile, e soprattutto chi amministrava era distaccato da quelli che erano i problemi reali. Non a caso il sindaco attuale forse sta amministrando da troppo tempo e da solo, a mio avviso, e non si rende più conto di quelle che sono le esigenze invece dal basso. Proprio lui che invece ha cercato sempre di fare della partecipazione un cavallo di battaglia, e addirittura i partiti che lo sostengono dovrebbero aspirare a questo. Invece ho visto una democrazia totale in L'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis è una persona seria, è una persona che stimo, e per questo ho deciso di partecipare a questo progetto, dando l'apporto in qualità di ingegnere, ma soprattutto in qualità di sostenitore, prima di tutto, proprio del progetto stesso. L'ha detto lei, c'è sfiducia dei cittadini verso la politica. Come mai allora la presenza, visto che molta gente si è messa in gioco nelle liste civiche, anche all'interno di coalizioni politiche, come mai la presenza di una lista fortemente politica, come quella dell'MPA, che comprende consiglieri uscenti, ex assessori, ex consiglieri e così via? Guardi, io penso che la politica debba essere scardinata dalla politica. Mi spiego, una lista civica è sicuramente un'operazione di protesta, se vogliamo, o addirittura di non adesione a quelli che sono gli schemi politici, perché magari una persona anche valida porta con sé un progetto, lo propone a un partito, e quel partito gli chiude la porta in faccia, proprio perché vuole cercare di amministrare, come magari ha fatto in precedenza, o con i suoi uomini, anziché con espressioni nuove. Quindi, quello che io sostengo è, sicuramente va dato un grande plauso alle liste civiche, che sono per esempio concorrenti anche con noi all'interno di L'Aquila Città Aperta, però penso che bisogna intervenire all'interno dei partiti stessi per cercare di fare in modo che la serietà pervada, deve essere quasi un virus, che le persone serie si mettono insieme, proprio all'interno dei partiti, per ridare credibilità al partito. E soprattutto, come diceva lei, la politica deve servire alla gente, non è più, bisogna cercare di fare una rivoluzione un po' copernicana. Per adesso, purtroppo, la politica si è avvalsa dei cittadini per fare magari... Non è semplice cambiare le carte. Eh, però, se nessuno inizia, penso che questo... non si può dire sempre, sarà l'altro che inizia questo processo. Ecco perché mi sono schierato direttamente, ho scelto, diciamo, di aderire all'MPA con onore e soprattutto con massima disponibilità. Chiaramente la mia prima candidatura è vista sicuramente con un modo, diciamo, di amministrare ancora in esperto, ma cerco di dare tutto l'apporto che ho per cercare di migliorare la cosa. Mancano più o meno sette giorni al voto, una settimana al voto, siamo vicinissimi, si parla di pronostici, Cialente dice di poter vincere al primo turno, gli avversari parlano di ballottaggio. Lei che idea si è fatto? Guardi, lei l'ha detto forse indirettamente nella sua domanda. Mancando così poco tempo, Cialente all'inizio di questa campagna elettorale, quando addirittura non si sapeva neanche che Giorgio De Matteis scendesse in campo, aveva detto che stravinceva le elezioni. Poi a un certo punto, un mese dall'inizio della campagna elettorale, addirittura stava al 51%. Negli ultimi giorni era uscito un sondaggio abbastanza anomalo, soprattutto per le percentuali. In qualità di ingegnere una percentuale deve essere sempre totale del 100%, invece il totale dava il 141%, addirittura era un po' improbabile che facesse questa somma, e Cialente si attestava al 48%. Ora, a sette giorni dal voto, sembra che i candidati siano appaiati, addirittura ci sia una differenza di pochi punti percentuali. A me piace dire che il sondaggio migliore è quello che faranno i cittadini alle elezioni a brevissima scadenza, però voglio anche far notare una cosa. Io ho fatto parte dell'ufficio stampa del precedente sindaco, di Biagio Tempesta, in qualità di professionista, perché ho svolto anch'io il ruolo del giornalista in passato. La cosa che voglio sottolineare, che mi è dato da pensare, è che il sindaco uscente, in quel momento Tempesta, aveva dato i dati della sua amministrazione, cioè quello che nel periodo in cui egli aveva governato, i dati numerici, così che i cittadini potessero verificare con i dati alla mano quali erano le proposte, gli obiettivi raggiunti. Io ho purtroppo una grande delusione dal sindaco Cialente, quella di non aver visto neanche una brochure indicativa, ma su tutte le pubblicità e anche in questa campagna elettorale usa sempre il futuro, faremo, diremo. Pensa di continuare. Sicuramente, se ho letto oggi un cartellone, il sindaco c'è. Sì, il sindaco c'è, ma ahimè, per Massimo Cialente il sindaco è Giorgio De Matteis.